Avete visto manifesti di insulti a me, manifesti di insulti persino a sua eccellenza il Vescovo. E' il confronto di questa campagna elettorale. Da una parte noi che vogliamo amministrare questa città, dall'altra il loro odio, l'odio per noi che nasce dalla consapevolezza che dopo la nostra vittoria elettorale sarà piazza culta. Non vi fate intimidire da questi signori che sono legati soltanto alle loro controlle. Usate bene questa famosa matita. Il 31 maggio mandiamoli a casa, mandiamo a casa anche i diffamatori.